amici bentornati sul canale nome legge di elaborazione autosportive oggi vediamo facciamo un unboxing di questo chi di aspirazione della eventuri abbiamo già presentato alcune volte la eventuri una azienda penso la più evoluta per il momento tra tutte quelle che noi utilizziamo è un'azienda inglese made in uk e producono chi di aspirazione specifici per un determinato gruppo di vetture non hanno un catalogo amplissimo però diciamo che le vetture diciamo sportive più gettonate l rs3 abbiamo fatto vedere già diverse volte diciamo il chi di aspirazione venturi su rs3 su m3 su bmw su mercedes diciamo che c'è una decina quindicina di vetture sportive sulle quali hanno sviluppato un chi di aspirazione specifico allora nello specifico questo andrà montato domani su una bmw 403 in serie 4 col motore 3000 benzina e adesso niente apriamo il kit sono curioso anch'io di vederlo perché su questo tipo di vetture la prima volta che lo montiamo quindi dotiamoci di mitico taglierino evitando di tagliarci una mano e procediamo ecco vediamo ovviamente la cura nel nelle protezioni che loro mettono perché visto il costo di questi elementi è meglio proteggerli in maniera molto precisa allora procediamo sempre con il taglierino questo dovrebbe essere il filtro principale poi ci dovrebbe essere il condotto di pescaggio dell'aria esattamente allora questo è la scatola filtro così quindi bellissima anche da vedere con il l'etichetta venturi all'interno ecco qua all'interno andrà alloggiato il filtro che sicuramente sarà in questa scatola come vedete anche a livello estetico è vero che viene chiuso nel nel cofano motore però questo è proprio vero carbonio fatto in autoclave qui non è un pezzo non so se si riesce a vedere comunque proprio un pezzo in vero carbonio non è un pezzo ecco lo si vede da qua quindi il motivo del costo di questi di questi elementi è dato dal fatto che viene fatto un uno stampo apposito per ogni singolo box questa l'apparatia anticalore e quindi esteticamente direi che è veramente un gelo fa quasi è quasi un peccato chiuderlo nel nel manomotore quindi questo lo appoggiamo qua perfetto io direi apriamo prima la parte del filtro qui abbiamo i manicotti di raccordo non sto ad aprirli perché tanto questi non non sono molti significativi questo è il filtro adesso quando tolgo la plastica e questo filtro andrà montato all'interno la particola questo è un filtro diciamo ad aspirazione diretta lavabile cotone lavabile un po come tutti i filtri ad aspirazione diretta ve lo faccio vedere magari un po meglio e questo va all'interno della scatola la particolarità di questi box di questi air box sta nel fatto che la dimensione la volumetria di questo filtro e la volumetria della scatola nella quale alloggiato sono stati studiati in maniera molto precisa cioè cambiare l'aspirazione una cosa relativamente semplice quello che è difficile è andare a trovare il giusto volume di aria per non andare a creare un eccesso di aria quindi smagrire troppo la miscela o un difetto quindi una una mancanza di aria arricchendo il rapporto stecchiometrico quindi per avere delle prestazioni reali per avere reale beneficio in questo caso bisogna avvalersi di aziende che hanno fatto uno studio tecnico quindi una parte del costo di questi di questi kit è dato proprio dal materiale che un materiale chiaramente molto costoso realizzare molto costoso ma una parte del costo è anche dovuto allo studio tecnico cioè c'è un motorista e un ingegnere che hanno studiato perché hanno fatto questo tipo di di filtro fatti in questa dimensione non l'ha fatto un po più alto un po più basso o con un imbocco fatto in maniera diversa perché probabilmente in funzione degli studi che hanno fatto questo tipo di soluzione è la soluzione migliore per quel tipo di motore ecco perché diciamo costi sicuramente elevati su questo non discuto però bisogna anche capire che il costo non è dato solo un discorso di materiale ma è dato anche da un discorso di studi che devono ovviamente essere ammortizzati devono essere pagati a questo punto aprirei questo che dovrebbe essere la parte che riguarda il condotto anche qua cerchiamo di non tagliarci una mano ecco per esempio venendo a al filtro che abbiamo fatto vedere ne abbiamo fatto vedere mi siamo un paio di filmati con dei filtri montati sulla rs 3 la nuova rs 3 la versione york ecco questo è il relativo condotto di aspirazione anche qua vedete la cura nei dettagli qui e c'è la sede dove viene alloggiato il debimetro filo caldo chiamiamolo come vogliamo vedete proprio la la cura nel dettaglio questo è un elemento molto importante significa che nel condotto di aspirazione originale il debimetro è inserito direttamente nel tubo che porta aria alla scatola filtro quindi in questo caso non lo si può spostare perché senza debimetro non la macchina chiaramente non curerebbe in maniera corretta quindi è stato previsto un inserto perfetto qua c'è la sede delle due viti quindi noi staccheremo toglieremo il debimetro dalla tubazione originale lo andiamo a inserire esattamente in questa finestra in questa asola chiuso con le due viti e lui si analizza la quantità di aria in ingresso queste sono appunto altre due sedi per le tubazioni direi che anche in questo calco qua vedete meglio la parte della realizzazione in carbonio lo si dice per uno che appena appena se ne intende si capisce che un pezzo di plastica avrappato e ma è proprio un uno stampo fatto apposto ecco tenete conto che per fare questo pezzo hanno dovuto realizzare proprio uno stampo apposito solo per questo elemento che poi viene prodotto in autoclave con un procedimento molto particolare poi viene rifinito con questo lucido ripeto è quasi un peccato chiuderlo nel nel vano motore quindi domani lo andremo a montare su questa bmw abbiamo già fatto una parte di lavori che guarda la la parte elettronica adesso il cliente appunto ci ha ordinato questo pezzo ci ha messo un quasi un mesetto arrivare dall'inghilterra e domani appunto lo andremo a montare sulla macchina se avremo la possibilità magari vi facciamo vedere anche il lavoro finito cioè con l'aspirazione montata direttamente nel vano motore io direi che anche per questo unboxing fatto un po al volo è tutto per qualunque genere di formazione come al solito ci potete contattare in sede io sono sempre presente da lunedì al venerdì quello che vi chiediamo è cliccare in basso a destra sulla campanella ma soprattutto iscrivervi al canale per rimane anzitutto per aiutarci a crescere visto che ultimamente abbiamo raggiunto dei risultati molto molto interessati siamo assolutamente contenti del lavoro del vostro seguito del fatto che voi ci seguite in maniera molto assidua ma soprattutto per rimanere a chi è interessato per rimanere sempre aggiornati tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.